La mia più grande preoccupazione attualmente sono le strade. Due anni fa io fui vittima di un incidente stradale che coinvolse me e un altro motociclista in modo frontale e da allora sono rimasto lesionato alla gamba sinistra e a tutto il lato sinistro del corpo. Quindi la mia preoccupazione più grande continuano ad essere le strade perché ho paura che ciò che è accaduto a me possa accadere a un mio caro, a un mio amico, come è successo ma a lui è andata peggio di me. Quindi ho il costante terrore che qualcuno possa sbagliare una manovra, possa non mettere la freccia e quindi coinvolga in qualcosa di veramente grave qualcuno che non c'entra nulla per motivi futili come una distrazione. Questa è la preoccupazione che mi accompagna tutte le volte che esco di casa in macchina, in motorino, in bicicletta.